Sono cinque i tifosi dell'Acragas arrestati e collocati agli arresti domiciliari per i disordini causati in occasione della gara tra Acragas e Profavara, disputatasi allo Stadio Esseneto di Agrigento e valida per la Coppa Italia. Sul loro capo pendono adesso le accuse di resistenza, violenza, minaccia pubblico ufficiale, lesioni personali e lancio di materiali pericolosi in occasione di manifestazioni sportive. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo di tifosi ha cercato di avvicinare i componenti della tifoseria avversaria e visto l'intervento delle forze dell'ordine per scongiurare incidenti ha iniziato a intonare cori oltraggiosi e minacciosi contro i poliziotti, per poi iniziare a lanciare sassi e bottiglie di vetro verso questi ultimi. Due investigatori sono anche stati raggiunti dagli oggetti lanciati, riportando ferite che li hanno costretti a sottoporsi alle cure dei medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, i quali hanno indicato per entrambi una prognosi di circa una settimana. Il gruppo di esagitati, secondo la ricostruzione della polizia, era ben più ampio rispetto ai cinque finiti nella rete degli investigatori, ma gli altri ultras sono riusciti a sfuggire ai tutori dell'ordine. La questura sta adesso cercando di rintracciarli, da capire se nella zona siano presenti impianti di sorveglianza che potrebbero avere immortalato tutti i responsabili, in modo da dare loro un volto e un nome. Sulla vicenda è intervenuto su Facebook il presidente dell'Acragas, Giuseppe Deni, insieme alla dirigenza della società, ribadendo la propria vicinanza e gli auguri di pronta guarigione agli agenti presi di mira da coloro che sono stati definiti facinorosi. Un fatto inaccettabile ed inqualificabile, si legge nel post, che prosegue. Quanto accaduto non ha alcuna giustificazione. Chi ha agito dimostrando assoluta mancanza di rispetto delle istituzioni, ne pagherà le conseguenze previste dalla legge. Ci dissociamo altresì da questi pseudosportivi che nulla hanno a che vedere con i principi di lealtà e fair play che questa società sportiva da sempre persegue. La violenza non si giustifica e non può essere tollerata.